Noi chiediamo a Vendola che mantenga sostanzialmente la sua promessa, ovvero ha scritto, ha detto su dei giornali che salvava 320 posti di lavoro, mentre al momento il progetto che doveva andare in porto, che era l'hybrid, la società che doveva acquisire quindi tutta l'azienda per fare dei taxi elettrici londinesi, a quanto pare è saltato così, è saltata la trattativa, le spiegazioni sono state vane e noi ci aspettiamo da Vendola domani che c'è un incontro al Ministro dello Sviluppo e dell'Economia che porti avanti la nostra voce e che mantenga appunto la promessa che ci ha fatto di salvare i 320 posti di lavoro. I circa 320 dipendenti dello stabilimento OM di Modugno tornano a protestare. In cassa integrazione a zero ore da una settimana, con un futuro nebuloso in vista, sperano nel governatore, Nichi Vendola. Domani per loro è una giornata importante, per questo stamattina hanno voluto far sentire la loro voce ai vertici della Regione Puglia. L'ultima carta da giocarsi per evitare la disoccupazione dopo il falimento di una serie di trattative.